Ciao, sono Ludovica Meneghella, sono una professionista del settore del graphic design. Mi sono laureata all'Issia di Urbino, dove ho approfondito e lavorato su progetti di grafica e comunicazione visiva. Ho continuato poi la mia formazione con un master in motion design presso la Bauer a Milano. Tramite collaborazioni con l'università, esperienze di tirocinio e di lavoro, ho potuto apprendere direttamente dai professionisti del settore. Il mondo della comunicazione visiva e del graphic design sono due delle mie più grandi passioni, che mi spingono ad aggiornarmi e a studiare continuamente. Non vedo l'ora di trasmettervi la mia conoscenza ed esperienza. Attualmente lavoro in uno studio come graphic e motion designer e da qualche tempo ho avuto l'opportunità di lavorare con voi, insegnando ai futuri professionisti del settore tutte le mie conoscenze e le mie esperienze. Le cose che amo di questo lavoro sono molte, ad esempio la creatività, quella che possiamo mettere in tutti i nostri progetti, oppure l'equilibrio tra precisione e libertà e infine il fatto che sia un settore in continua evoluzione. Il nostro settore è molto ampio e ci sono moltissime opportunità di lavoro. Potrai scoprirle man mano che studi, approfondisci e capisci cosa vuoi fare. Ad esempio puoi lavorare come graphic designer, dipendente in uno studio o freelance, grafico editoriale, web designer. Puoi anche integrare il tuo talento per l'illustrazione. Se desideri fare della tua passione la tua professione, questo è il posto giusto e lavoreremo in team per realizzarlo. Ti aiuterò a implementare le tue conoscenze e competenze. Ti incoraggerò ad avanzare in questo corso e a farmi domande. Hai a tua disposizione tutta la mia esperienza, la mia conoscenza e il mio supporto, così come quella di tutti i nostri colleghi, professionisti del settore. Iniziamo! Grazie a tutti!